Salve a tutti, oggi siamo con Laura Taradel, psicologa, formatrice esperta di comunicazione non verbale e parte di questo movimento che attraversa da ormai parecchio tempo il terzo municipio che si chiama Grande come una città. Oggi cerchiamo di, dopo aver ragionato insieme con i giovani di Borgato Cordiani e con i giovani della Libera Assemblea di Centocelle, torniamo sul tema di movimenti sociali, movimenti popolari che stanno ormai da qualche tempo e soprattutto rafforzati durante la pandemia, una logica di forme di solidarietà, di attenzione alle problematiche dei quartieri, delle persone più deboli, che durante questa fase difficile si è cercato appunto di costruire delle nuove reti di relazioni, delle nuove modalità di intervento sui territori, cercando anche di ripensare proprio le forme di convivenza, ripensare proprio il rapporto tra cittadini e territorio. Ecco, Laura, raccontaci un po' di questo movimento, di questa esperienza, come nasce e come in quest'ultimo anno in particolare e poi è andato avanti. Prego, Laura. Allora, ciao Alessandro, intanto grazie per l'invito, mi dai quest'occasione per parlare un po' di Grande Comuna Città, che è un movimento di cittadinanza attiva, un laboratorio politico al quale io tengo molto. Intanto sì, vorrei partire da inquadrare un po' il contesto nel quale nasce, il dove, il quando. Allora, nasce nel quadrante nord-est di Roma, terzo municipio, che è un municipio ampio, è abbracciato dal Tevere e dalla Niene e si stende fra i quartieri che molti conoscono, da Montesacro, Tufello, fino a Salirsu, Serpentara e Fidene. Nasce, diciamo, pochi mesi dopo l'insediamento della giunta Caudo, questo è il contesto. Quindi, praticamente, a settembre 2018, l'assessore alla cultura Christian Raimo fece questa chiamata, la chiamata alle arti, convocò, diciamo, i cittadini del municipio a partecipare a questa grande assemblea per vedere chi volesse, come dire, collaborare, partecipare a progetti culturali sul territorio. Ora, probabilmente questa chiamata ha intercettato il desiderio di molti, considerato che in quel giorno in aula consigliare c'erano, credo, più o meno 500 persone. Ha intercettato quale desiderio? Proprio, credo, quello delle persone di partecipare attivamente alla vita politica, no, del proprio luogo dove si svolge la propria vita e mettersi in rapporto con le persone e con le istituzioni. Ma diciamo che inizialmente, diciamo, questo primo gruppo ha iniziato a organizzarsi prima, diciamo, tecnicamente con gruppi che potessero curare l'organizzazione anche della segreteria, della comunicazione, del sito. Dopodiché si sono formati i gruppi tematici. Ora, spesso, soprattutto in una fase iniziale, ci si è interrogati anche intorno a quali valori noi ci stavamo, no, avvicinando l'uni agli altri, perché molte persone non si conoscevano e sicuramente abbiamo individuato nei valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo i valori intorno ai quali aggregarci. Secondo poi, sono nate appunto i gruppi intorno a tematiche di interesse. I gruppi sono stati tantissimi, Alessandro, diciamo, per me è difficile elencarli tutti, posso farne cenno di alcuni. Per esempio, abbiamo avuto il gruppo scienze, storia, abbiamo una scuola di politica popolare, una scuola di scrittura, un gruppo arti, un gruppo italiano per stranieri, un gruppo che si occupa di ambiente, un gruppo che si occupa di psicologia sociale, un gruppo che si chiama Quinta Nazione e si occupa di migranti, ma veramente sono tantissimi, sono tantissimi. Ora, questa chiamata le arti di cui ti parlavo è stata il 5 settembre del 2018. Diciamo che da allora una delle attività più che ci ha caratterizzato e che ci ha dato una prima identità, è stata quella di fare pedagogia pubblica. Quindi, diciamo, questi eventi dove noi abbiamo invitato persone note o meno note, comunque esperti nel loro settore, si sono svolti in vari ambienti. Cioè, abbiamo preso spazio in luoghi all'aperto, mi viene in mente per esempio il lotto del Tufello, dove proprio in fase iniziale venne Massa Andrea, venirono tantissime persone, veramente un'esperienza, diciamo, dal punto di vista umano molto, molto emozionante, ma anche piazza Conca d'Oro, dove abbiamo la fermata della metro, il parco delle valli, in notturna venne Celestini a lume di candela a farci una lezione. Ma non solo spazio all'aperto, abbiamo preso contatti con le scuole, quindi abbiamo avuto una veramente risposta molto bella da parte dell'Orazio, Nomentano, Aristofane, Giordano Bruno, che ci hanno ospitato, hanno ospitato i nostri esperti e hanno promosso, come dire, questa, diciamo, appunto, percorso di pedagogia pubblica. Ora, nel frattempo, ah scusami, anche però noi abbiamo fatto eventi anche all'interno del municipio, in aula consigliare, questo è molto importante perché il municipio ha aperto le porte ai cittadini, ok? Noi dobbiamo fare una domanda, dovevamo presentare, no, l'evento che volevamo svolgere, ma il più delle volte le nostre domande sono state accolte, abbiamo fatto anche eventi molto interessanti lì. Ora, diciamo, abbiamo avuto una grande collaborazione e supporto sia dal Presidente Caudo che da Raimo, ma anche dagli assessori Claudia Pratelli, Stefano San Paolo, la Maria Romano, diciamo, piano piano abbiamo costruito un dialogo con loro, non che sia stato un dialogo, come dire, scontato e semplice, ci sono state riunioni, conflitti, discussioni, chi la vedeva in un modo e chi in un altro, però comunque possiamo dire che è stato un rapporto del quale ci siamo presi cura, ecco. Io ti posso fare un paio di domande rispetto anche come reazione a quello che tu hai detto, che racconto che hai fatto. Dunque, tu dicevi appunto, siamo nel terzo municipio, no? Il terzo municipio è piuttosto composito anche da un punto di vista sia urbanistico che da un punto di vista di composizione sociale. Noi abbiamo, diciamo, dei quartieri storici popolari come Tuffello, no? L'area di Val Melaina, come abbiamo anche delle ex borgate come la Fidene, e poi abbiamo dei quartieri anche molto residenziali, molto diciamo... Montesacro, Montesacro Alto, sì. Esatto. Quindi, ecco, la domanda è, diciamo, come si tiene insieme, no? Tutto questo da un punto di vista del fatto di riuscire a trovare dei temi, delle forme anche partecipative appunto, che tengano insieme, diciamo appunto, anche persone con delle persone cittadini, con dei background sociali, economici, molto differenziati, che ovviamente hanno anche vite molto diverse, perché ci sono sicuramente, come dire, appunto persone che lavorano nel campo, come dire, della cultura, nel campo della, come dire, adesso la parola sembra brutta, ma della manipolazione simbolica, per intenderci, e poi ci sono invece, diciamo, persone che fanno l'autista dell'Atac, piuttosto che, no? Ecco, ovviamente questo non vuol dire niente per tanti aspetti, però è chiaro che è una difficoltà, cioè ci possono essere difficoltà, trovare i temi che coagulano, diciamo, un interesse. Certamente i temi culturali sono trasversali, no? Per cui possono, possono trovare. Ecco, però, mi domandavo, ecco, diciamo che, allora, intanto, diciamo, che tipo di riflessione avete fatto, no? Sì, ma allora, intanto diciamo che l'approccio che c'è stato un po' da parte di tutti, anche in maniera spontanea inizialmente, no? È stato un approccio molto inclusivo, nel senso che c'è stato, sempre un rispetto per le differenze, no? Come dici tu, anche culturali o sociali, economiche. Diciamo che, però, accanto all'interesse culturale c'è stato anche quello sociale, nel senso che noi ci siamo anche mossi a cercare di far rete con altre realtà che già da parecchi anni erano presenti sul territorio. Adesso faccio riferimento ad Astra, Brancaleone, Lab Puzzle e altre realtà che già erano, come dire, dentro al tessuto sociale, no? E quindi ci siamo aggregati. Adesso ti faccio un esempio. Durante la pandemia, Astra si è mobilitata, diciamo, per portare la spesa, ha, diciamo, qualcosa da mangiare alle famiglie più povere, no? Eh, si è organizzata in maniera molto, molto efficace. Noi abbiamo collaborato, qualcuno di noi ha collaborato, oppure un gruppo di Grande Una Città ha messo su, durante il primo lockdown, uno sportello psicologico, ovviamente tenuto da esperti del settore, io ne ho fatto parte di questo sportello, che è stato abbinato alla spesa sospesa, diciamo, al portare la spesa alle persone più fragili, ok? Quindi, diciamo, da una parte c'è stato un discorso, come dire, culturale, di interesse, adesso faccio mente locale su tutti gli eventi che hanno riguardato la storia, la politica del nostro paese. Dall'altro un interesse più orientato al sociale. Ci tengo a dire che il nome di Grande Una Città nasce proprio dal fatto che il nostro municipio è grande come una città, in termini di numero di abitanti, è paragonabile a Trieste, Padova, ad altre città, veramente molto ampie, come tu facevi notare, con quartieri molto diversi. Però ci siamo mossi in tutti questi quartieri, per esempio, il gruppo che si occupava dell'italiano per stranieri, ha iniziato a collaborare con alcune scuole di Fidene, per esempio, se non erro, e ha offerto come volontariato supporto ai ragazzi che avevano bisogno, come dire, di un aiuto extrascolastico, no? Quindi siamo entrati anche in quelle realtà dove la domanda non era tanto o soltanto, come dire, mi interessa la cultura, l'arte o la musica, ma ho bisogno di un supporto, ok? Sì. No, quindi mi sembra interessante il fatto che appunto tu hai citato alcuni centri sociali storici, no? del terzo municipio, Astra, Brancaleone, cioè sono proprio, diciamo, anche della città di Roma in generale, sono proprio come ormai delle istituzioni per certi aspetti. Anche perché poi hanno sempre prodotto, diciamo, soprattutto nella dimensione giovanile, hanno prodotto, diciamo, anche cultura, fenomeni di tendenza, dalla musica, ma anche a forme di socializzazione. Ecco, e poi mi trovo interessante anche il fatto che ci sia stato anche questo coinvolgimento, questa capacità di coinvolgimento del tessuto associativo, perché il terzo municipio ha un tessuto associativo particolarmente corposo, ricco, pieno anche di realtà che fanno delle sperimentazioni interessanti. Io ne conosco qualcuna, ecco, soprattutto tu citavi per esempio la scuola per stranieri, ecco, ci sono tutta una serie di, ci sono alcune realtà, insomma, che su questo da anni lavorano e quindi ecco, riuscire a mettersi in rete è più, è consente anche appunto di, come dire, capitalizzare questo, questo capitale sociale che c'è, queste competenze, no, che ci sono sul territorio, conoscenza sia degli ambiti territoriali, quindi i vari quartieri appunto, e dall'altra anche, però, anche se uno vuole fare, per dire, la scuola di italiano per stranieri, ecco, non deve partire da zero, ma può partire già da esperienze ormai anche consolidate sul piano metodologico, sul piano dell'approccio, sul piano della relazione anche appunto, tu citavi le scuole, no, ecco, le scuole di Fidene sono, per esempio, noi come Casa dei Ritti Sociali abbiamo fatto molti interventi nelle scuole di Fidene partendo dalla scolarizzazione dei bambini rom a venire avanti e per dire, ecco, io so di alcuni dei nostri che credo che hanno partecipato in questa parte, diciamo, di costruzione della relazione con queste scuole. Ecco, ti volevo chiedere, ecco, questo rapporto, la differenza, una differenza che c'è appunto tra voi, diciamo, come un movimento e quelli che abbiamo citato prima, cioè la Libera Assemblea di Centocelle, Borgata Cordiani, è proprio il discorso che voi siete partiti da questo appello alle arti, che non è un appello alle armi, è un appello alle arti dell'assessore scrittore intellettuale Christian Raimo, mentre invece loro sono partiti, diciamo, da, come dire, un'auto-organizzazione proprio dal basso di cittadini che a un certo punto si sono detti, qua dobbiamo fare qualcosa rispetto a eventi, come dire, di criminalità nel caso della Libera Assemblea di Centocelle, gli attentati alla libreria, la pecora elettrica da una parte e dall'altra invece una squadra popolare di calcio che improvvisamente ha scoperto che uno non poteva più giocare a pallone, due e tra le altre non aveva neanche il campo in realtà, perché il municipio l'aveva destinato ad altri usi, come dire, ecco, per capire, insomma, no, ecco, che in questi casi il rapporto con l'istituzione, il municipio, ma non parliamo poi del comune, molto difficile, molto controverso, molto conflittuale da parte di chi si auto-organizza e dall'altra parte sostanzialmente una difficoltà a riconoscere, a riconoscere questi cittadini che in qualche misura si stanno ponendo un problema rispetto ai bisogni che ci sono nel quartiere, si stanno attivando, no, per cercare di rendere il quartiere più vivibile, più di risolvere dei bisogni, affrontare e risolvere dei bisogni sociali. Ecco, su questo, diciamo, tu dicevi che ogni tanto ci sono stati anche dei conflitti, no? Ecco. Ma sì, perché, diciamo, l'idea, no, la proposta nata da Cristian Raimo e sostenuta da Gaudo, dalla sua giunta, diciamo, di coinvolgere i cittadini in un discorso, come dire, culturale e politico del territorio è una bellissima idea, anche molto illuminata, però non è sufficiente, no? Cioè, poi i rapporti hanno bisogno di conoscenza, di cura, di ascolto, insomma, no, di proposta. Quindi, diciamo che noi, diciamo, abbiamo sempre avuto una porta aperta con il municipio, no? Cioè, quindi un dialogo aperto. Forse, diciamo, c'è stata una fase in cui il movimento avrebbe voluto, appunto, un riconoscimento, no, identitario quasi, da parte del municipio, che è passato, per esempio, per la richiesta di uno spazio, ok? Cioè, il movimento ha detto dove ci riuniamo, dove ci vediamo, dove facciamo le nostre cose, no? C'è stata la richiesta di uno spazio. Ora, questo purtroppo non era disponibile, non so, in futuro, magari, chissà, vediamo, e ci ha costretti, diciamo così, a girare per tutti i quartieri appoggiandoci ad associazioni già esistenti, andandone in bar, andando nelle piazze, a fare riunioni. Questo è stato anche interessante, devo dire, perché ci ha indirettamente messo ancora più in contatto con delle realtà del territorio, perché girando a fare riunioni per tutto il municipio, no? Ci siamo trovati a conoscere un sacco di persone. Però è ovvio che poi, a un certo punto, uno anche ha bisogno di fermarsi e avere un luogo. Diciamo che adesso questo rapporto, io direi che è ancora molto in itinere, è fluido, è anche vero che poi non sappiamo, no? Per quanto tempo, diciamo, a un certo punto caudo, non ci sarà forse no più in questa giunta, chissà chi avremo, insomma è tutto da vedere. Però, diciamo, per quello che riguarda questi due anni, devo dire che è stato un rapporto proficuo. Poi ovviamente, diciamo, ci sono opinioni diverse all'interno del movimento, no? C'è chi ha avuto uno sguardo più benevolo verso il municipio e chi meno, nel senso che chi si aspettava un maggiore investimento, no? Sul movimento e chi aveva meno aspettative, magari. Quindi ci sono anche posizioni diverse. Ecco, io sto cercando di tenere insieme i diversi punti di vista. Però ecco, devo dire che è stato, ed è tuttora, ti dico per esempio un'ultima cosa, lo sportello psicologico che abbiamo messo su durante il primo lockdown è stato fatto anche con il supporto di Claudia Pratelli. Adesso c'era l'idea di farlo ripartire, addirittura di chiedere il patrocinio al municipio, chissà se lo, non so se poi lo faremo, riusciremo ad averlo. Però, diciamo, c'è sempre un rapporto limpido. A questo proposito, magari, ecco, vorrei che tu raccontassi un po' l'esperienza che tu hai seguito più direttamente, che è quella del portirato sociale e che, appunto, potrebbe avere un esito anche molto interessante, anche riferito a una prospettiva di futuro. Sì, speriamo. Allora, più o meno, allora, diciamo, quando si è costituito il gruppo del quale io faccio parte, cioè quello di antropologia e psicologia sociale, ci siamo, a un certo punto, il gruppo era molto numeroso, ci siamo interrogati sul concetto di cura. Considera che questo gruppo, oltre che da cittadini, comuni, contava anche molti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, antropologi, no? Quindi ci siamo interrogati su questo concetto di cura e che cosa significava per noi come cittadini che vivevano in un determinato territorio. A un certo punto ci siamo andati a vedere altri modelli che esistevano in Europa e ci siamo soffermati, in particolare, su un modello italiano che, diciamo, nasce a Trieste, che noi sappiamo avere una tradizione molto forte, no? Riguardo anche al sostegno, alla psichiatria con Basaglia, che è il modello delle micro aree. Ora non mi addentro troppo in questo modello, però per chi volesse approfondire esiste un libro che si chiama La città che cura, curato da Maria Grazia Cogliatidezza. Esiste anche un documentario di Erika Rossi che si chiama sempre La città che cura, per saperne un po' di più. Però diciamo che è un modello rivolto non solo a pazienti psichiatrici, rivolto a persone fragili che vivono in contesti di grande difficoltà, ok? Economica anche. E mette in rete, coordinato, diciamo, dal distretto sanitario, mette in rete municipio, Ater, associazioni del territorio, cooperative, privato cittadino, ok? E lo fa anche attraverso un luogo fisico che si chiama portierato sociale, che è, diciamo, il luogo in cui si coordina e si aggrega. Gli operatori delle micro aree di Trieste sono degli operatori che a volte vanno anche porta a porta a fare una sorta di mappatura di quel territorio che ovviamente, diciamo, questo è un progetto dedicato alle periferie e alle zone, diciamo, meno, diciamo, meno curate in realtà. È un progetto per le periferie e vanno porta a porta a trovare anche quelle persone molto bisognose che per i più svariati motivi non sono in grado, non riescono ad accedere ai servizi che in realtà ci sono, ok? Ai servizi sanitari, sociali che ci sono, ma proprio magari non escono da casa. Nel documentario c'è il caso di un signore che abitava al quinto piano di un palazzo senza ascensore, che aveva difficoltà di deambulazione, viveva quasi chiuso in casa, quindi questi operatori sono riusciti a entrare nella casa di questo signore, a metterlo in rete e prendersi cura di lui. Ora, noi abbiamo preso spunto da questo modello delle microare e abbiamo scritto un progetto per il nostro territorio. Lo abbiamo presentato all'assessore Maria Romano e anche a Caudo ovviamente, che sono rimasti insomma molto contenti del nostro progetto, anche perché Giovanni Caudo aveva già in mente e stava proprio alla ricerca di uno spazio dove fare un luogo di aggregazione, un porterato sociale al Tufello. Quindi poi noi abbiamo fatto diverse riunioni in municipio con loro, abbiamo anche invitato Maria Grazia con gli attidezza che è scesa da Trieste ed è venuta da noi giù in municipio a farci diciamo una sorta di lezione su quello che era la loro esperienza triestina e Maria Romano ha anche preso dal nostro progetto dei pezzi proprio per metterli in agenda diciamo, non di un'attività municipale. Ora tutto questo accadeva più o meno un anno fa, quindi poco prima della pandemia. L'arrivo del coronavirus ha sicuramente sospeso e rallentato tutto ciò per cui diciamo questo progetto non si è al momento realizzato. Quello che ti posso dire è che però nel momento in cui Caudo ci ha detto questo è un progetto che si potrebbe realizzare in questo territorio, anche Maria Romano ci ha detto guardate però se voi come grande come una città volete partecipare, continuare ad esserci in questo progetto che poi è stata anche una vostra idea, però dovreste avere un'identità giuridica. Come movimento non potete accedere a un bando o al municipio che mette un bando per le associazioni, le APS, il volontariato, le cooperative. Questa è stata una spinta molto forte, già leggiava nell'aria, come dire, il grande una città si chiedeva ma se noi vogliamo fare qualcosa in più. Come facciamo? Insomma, adesso te la faccio breve, da un anno, primi di aprile del 2021, quindi poche settimane fa, abbiamo registrato all'agentità delle entrate la nostra APS, la nostra associazione di promozione sociale, quindi muoviamo i primi passi e vediamo se con questo, ma anche altri progetti, riusciremo a essere, come dire, anche più incisivi, ecco, anche perché quello di cui ti ho parlato all'inizio, quell'organizzazione iniziale dei tantissimi gruppi che hanno prodotto, ti dico, credo più di 250 eventi culturali abbiamo prodotto in due anni. E apro e chiudo la parentesi, se qualcuno volesse vedere le registrazioni le può trovare o sul nostro canale YouTube di Grande Comunacittà, sono tutte registrate, le lezioni e gli eventi sono veramente tutti molto interessanti, o sulla pagina Facebook di Grande Comunacittà o sul sito grandecomunacittà.org, questo per chi volesse andare a vedersi gli eventi che abbiamo. Però, diciamo, quell'organizzazione dei tanti gruppi che si muovevano, soprattutto sul piano culturale, durante la pandemia e non solo però per la pandemia, proprio come processo, come dire, di gruppo, c'è stato un momento di grande crisi all'interno del movimento, per cui, per esempio, alcuni gruppi che io ti ho citato non ci sono più al momento, altri invece sono andati avanti, se ne sono creati di nuovi, qualcuno se n'è andato, ok, dal movimento. Quindi c'è stata un'evoluzione nel frattempo e mi pare che anche la nascita dell'associazione faccia parte, diciamo, sia del momento di crisi che del momento di evoluzione di Grande Comunacittà. Sì, ecco, a me sembra tutto molto molto interessante perché, diciamo, è la dimostrazione che le nostre città, soprattutto chiaramente le persone che le vivono, che vivono nei quartieri, che vivono nei municipi, sono un grande patrimonio di competenze, anche di voglia di costruire relazioni umane e significative, di dare un senso alla propria vita, come dire, oltre il fatto che uno lavora e ovviamente ha magari anche una famiglia e tutto il resto, però c'è anche questo desiderio comunque di stare insieme agli altri e di vivere poi in quartieri che siano accoglienti. Tu citavi questo gruppo di lavoro sul portierato sociale, ecco, è la dimostrazione del fatto di porsi consapevolmente il tema di avere una comunità che si prende cura di se stessa. Quindi questo è per dire che, appunto, diciamo, se si riescono a mettere in moto, diciamo, queste risorse umane, chiamiamole così, come dicono quelli che si occupano di... No, invece sono in realtà capitale sociale, sono persone, sono cittadini. Sì, sì, il nostro capitale umano. Si possono fare delle cose incredibili, no? La città può essere trasformata completamente, diciamo, in resa, no? Tu citavi 250 eventi, uno parla, uno si ricorda, io sono della generazione, diciamo, di Nicolini e dell'estate romana, no? Ecco, cioè, voglio dire, non c'era... Viene alla memoria. Forse non c'è, diciamo, almeno nelle prime fasi, credo che 250 eventi non si riuscissero a fare neanche in tutta la città, ecco, tutta la città di Roma, dico, ecco, in me città si riescono, sono riusciti a fare in un municipio che è il terzo municipio di 15, quindi voglio dire, no? Ecco, per dire. Quindi questo mi sembra molto interessante e molto incoraggiante, per questo, ecco, ci teniamo molto a seguire questa vostra esperienza e vedere, appunto, anche, magari, appunto, prossimamente, magari fare un incontro dove ci sia anche qualche altro che possa ragionare sui vari, diversi gruppi di lavoro, in maniera tale da dare proprio il senso di... Un ventaglio, sì, perché ecco, io ho cercato di fare un po' sinteticamente il punto, ma ecco, ti dico, c'è la scuola di politica popolare che sta facendo un lavoro enorme, abbiamo il tavolo che sta in relazione con il forum di disuguaglianza e diversità di barca, che sta partecipando appunto all'agenda partecipata del municipio, insomma, ci sono un po' di cose. Ecco, l'unica cosa che non ho citato e ci tengo è che un anno fa, tra i prodotti, ecco, tra i prodotti di questo grande gruppo di Grande Una Città, c'è stato un libro, che per edizioni allegre, è uscito nel 2019, si chiama appunto Grande Una Città ed è scritto a 30-40 mani, credo, perché abbiamo scritto in tantissimi, è diviso, diciamo, nell'indice troverete, diciamo, dei verbi, no? Per esempio, noi ci siamo presi il verbo curare, prendersi cura, ecco, il nostro articolo sul portierato sociale è quello lì. Diciamo che, ecco, quel libro può dare un po' l'idea di come è nato questo movimento e dare una speranza anche rispetto al fatto che sono, come dire, delle realtà che si possono replicare, no? Anche in altre città, più piccole, anche di Roma. Anche in municipi, voglio dire, no? Cioè, voglio dire. Esatto. Credo che sarebbe anche buono per noi metterci in rete con la Libera Assemblea di Centocelle ed altri, noi conosciamo, insomma, alcuni di loro, però dovremmo, secondo me, veramente creare una rete ancora più solida. Metropolitana, diciamo. Sì, metropolitana. Esattamente. Perché, secondo me, ecco, le esperienze che ciascun gruppo ha fatto, ormai hanno accumulato anche dei saperi, no? Delle metodologie, degli approcci, delle riflessioni su varie questioni, e che sarebbe interessante aprire questo confronto, tenerlo molto aperto, in maniera tale che ci sia questo scambio di esperienze, questo confronto, e quindi ci sia, possa essere anche un'accelerazione negli interventi, perché, per esempio, nell'incontro che ho fatto la Libera Assemblea di Centocelle, ecco, su alcune cose loro sono andati molto avanti, su altre in realtà stanno riflettendo, ecco, magari un confronto con altre esperienze sarebbe molto utile, perché appunto gli consentirebbe di andare molto più veloci e di raggiungere gli obiettivi che loro sono, ce l'hanno chiari quali sono, il problema è quali mezzi, quali strumenti, quali metodologie, no? Soprattutto che tipo di rapporto tenere con le istituzioni, capito? Perché qua, sì, bisogna starci il rapporto. Sì, questo è anche molto importante, perché appunto, come dicevo, voi avete la fortuna, avuto la fortuna di avere, diciamo, un municipio, tra virgolette, intelligente, no? Che è aperto, anzi, ha, come dire, ha chiesto, come dire, la collaborazione dei cittadini. Esatto. Però nel panorama, nel panorama di Roma, ecco, degli altri 14 municipi, ecco, questo non succede, non è successo e quindi c'è anche un tema politico più generale, che è quello di quale deve essere il rapporto tra l'istituzione e i cittadini, no? Cioè, nel senso che, d'accordo? È questo il grande tema, sì, esattamente. Quindi in questo senso, ecco, fare rete tra questi movimenti può aiutare anche a far maturare, come dire, al ceto politico, una visione diversa rispetto al rapporto, appunto, tra istituzioni e i cittadini, un po' più democratico, un po' più partecipativo, no? Ecco, di apertura, ecco, anche perché, appunto, tu citavi il tema degli spazi. Sappiamo che è un tema molto delicato, questa amministrazione comunale, in particolare, reagendo, diciamo, già era partito da prima, perché già risale all'amministrazione precedente, c'era stata questa pressione della Corte dei Conti sugli spazi, in particolare quelli dedicati a attività sociali, come può essere, per esempio, uno spazio per il movimento grande come una città, ma anche e soprattutto quelli dei centri sociali da una parte e poi c'è tutto il tema anche delle associazioni che molto spesso hanno pagato regolarmente dei canoni ridotti perché veniva riconosciuto questo loro impegno sociale e poi invece paradossalmente sono arrivate, diciamo, degli interventi della Corte dei Conti rispetto al tema, come dire, che bisogna pagare, cioè, che bisognerebbe quasi equiparare, no, gli spazi sociali a degli spazi commerciali, ovviamente questo è insostenibile, no, per le associazioni, soprattutto per le organizzazioni di volontariato che non hanno delle entrate tali da poter pagare dei canoni che sono quelli di un'attività commerciale, ecco, e quindi diciamo, su questo per esempio c'è molto da lavorare perché in realtà questo regolamento che il Comune avrebbe dovuto tirar fuori credo che sia ancora fermo, ecco, e molte associazioni hanno avuto nel frattempo la richiesta di sfratto, ecco, quindi noi per esempio come Casa dei Ritti Sociali siamo dovuti ricorrere al Tar e abbiamo vinto, no, perché ci avevano chiesto di liberare la sede storica che noi abbiamo a Viaggiolitti dove facciamo sportello sociale, scuola di italiano e tutta una serie di altri interventi, ma questo per dire che appunto su questi temi occorre fare un lavoro di sensibilizzazione della politica, ecco, perché non è possibile che, diciamo, quando poi ci sono delle situazioni eccezionali si dica, no, i cittadini, la cittadinanza attiva, gli eroi, sono degli eroi, fanno queste cose incredibili e poi però sostanzialmente per il resto si riconoscono un giorno e poi per 364 giorni, cioè il resto dell'anno sostanzialmente non viene affatto nessun tipo di riconoscimento per l'impegno quotidiano che le persone mettono, no. Esatto. Va bene, ti ringrazio tanto e quindi poi insomma ci rivediamo prossimamente, magari appunto insieme con un gruppo, diciamo, rappresentativo dei gruppi di lavoro, ecco, e facciamo un evento su questo. Perfetto, con molto piacere. Grazie. 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 Grazie.